Integrali? Impropri? Cosa sono? E come si svolgono? Risolviamoli insieme, dai! Ehi là, ciao Big Genius! Questo esame di analisi matematica non ti fa dormire la notte? Oh mio Dio, magari ce l'hai proprio domani? Tranquillo, ci sono io qui al tuo fianco, come al solito, Matteo, anche noto come SuperMath, il tuo superiore scientifico sempre a portare i click, pronto a darti una mano, come al solito, sia in matematica che in fisica. Continuiamo la nostra avventura nelle esercitazioni di analisi matematica con integrali impropri. Ma perché integrali impropri? Che vuol dire integrali impropri? Intanto siamo passati nel magico mondo degli integrali definiti, vedi che compaiono qui estremi di integrazione, estremo inferiore, estremo superiore, mentre la precedente video lezione sugli integrali l'avevamo dedicata agli integrali indefiniti. Oh, ma che tela si è persa? No, no, non scherziamo, badabam, salto qui e sbam, il gioco è fatto. Mi raccomando, esercizi sugli integrali in particolar modo, tecnica di integrazione per parti, ovviamente arriveranno anche tutte le altre tecniche e altre esercitazioni, lascia un commentino qui sotto se vuoi vedere qualcosa in particolare. Dicevamo, perché integrali impropri? Beh, il gioco in realtà è semplice quanto difficile. Questo è il magico mondo della derivabilità, il mondo più stretto in assoluto. Una funzione è derivabile, se è derivabile allora è sicuramente anche continua. Questo è il magico mondo della continuità. Ma se una funzione è continua, allora è necessariamente integrabile. Esattamente vero, ma in realtà l'insieme dell'integrabilità è ancora più grande, stando alla definizione di integrale secondo Riemann. Questo che vuol dire? Vuol dire che una funzione potrebbe non essere continua, quindi prendere un intervallo in cui compaiono dei punti di discontinuità, ma la funzione continua ad essere perfettamente integrabile. Ops, perfettamente mica tanto, visto che c'è un problema chiamato appunto integrali impropri. Osserviamo, questo è un integrale che va da 0 a 1. Peccato che questa funzione non è definita in x uguale a 0. x deve essere diverso da 0. Quindi ti sto comunicando una cosa sotto sotto, non so se l'hai ancora capito, che magari quando fai un integrale definito, la prima cosa da fare sarebbe quella di fare il dominio della funzione integranda. Se no, rischi di prendere, boh, fischi per fiaschi e non sarebbe proprio geniale come idea. Successivamente qui, vabbè, il peggio del peggio, che si nota magari prima perché c'è più infinito, sì, esatto, gli estremi di integrazione possono anche tendere all'infinito. Sì, lo so, ti ho detto 10.000 volte che non sono numeri, allora un mio Dio come mai compare qui è perché trattasi di integrale improprio. Se la domanda è come si risolvono gli integrali impropri, la risposta è giocando un po' con i limiti e un po' con gli integrali. Sì, esatto, metteremo tutto all'interno di un fantastico calderone e il gioco è fatto. Un integrale improprio, a questo punto cosa potrebbe fare? Potrebbe convergere come divergere. Prendi questo esempio. Questo è un ramo di iperbole, y uguale a 1 su x e fondamentalmente tu magari vuoi farmi l'integrale da 0 a 1. Perfetto, lo puoi fare, quest'area esiste, ma sicuramente esiste. Quest'area potrebbe convergere come divergere. Magari prova tu e poi fammi sapere con un commentino qua sotto se questo integrale da 0 a 1 in dx converge oppure diverge. Ovviamente dopo aver visto il video e aver ripassato insieme a me la tecnica degli integrali impropri. Non sia mai che mi metti pausa proprio adesso perché oh my god, se no dove andiamo. Esatto. Quindi noi che cosa facciamo? Facciamo un integrale normalissimo, solo che invece che andare a sostituire poi entrambi gli estremi di integrazione, cosa che non possiamo fare con 0, metteremo una magica t qui e poi davanti ci metteremo il limite per t che tende a 0 da destra perché noi ci avvicineremo a 0 ma arrivando da destra. Questa è sostanzialmente la tecnica che utilizzeremo per risolvere questi due integrali impropri. Ora ho già chiacchierato tanto, sembra davvero difficile da spiegare e anche da farsi, ma non è così, dagli è tutta. Primo esercizio, primo integrale improprio, a noi due. Come on guys! Integrale da 0 a 1 di 1 fratto la radice quinta di x alla seconda in dx. Quanto fa? Bella domanda. Apparentemente sembra semplicemente un integrale definito. Quindi dice Matteo ma che ci stai prendendo in giro? Dice io applico la formula dell'integrale definito, integrale da b di f di x in dx, primitiva nell'estremo superiore, meno primitiva nell'estremo inferiore e grazie, arrivederci. But there is a problem. Questo è un integrale improprio, no, non mi sono sbagliato. Quello che ti consiglio è sempre e comunque di fare prima di tutto il dominio della funzione integranda. Infatti se questo è x diverso da 0, vuol dire che tu stai andando ad integrare questa funzione in un suo punto di discontinuità. Questo è il problema e questo è quello che rende l'integrale improprio. E quindi Matteo come facciamo? Beh la prima cosa tecnicamente è trasformare questo integrale in un limite di una funzione integrale. Ma che sei matto? Hai bevuto troppo oggi? No, in realtà non credo. Quindi di conseguenza integrale t1, cioè al posto di questa ci metto una t. Perché? Perché se questa funzione esiste per x diverso da 0, vuol dire che questa è una funzione che esiste da meno infinito a 0, unito da 0 a più infinito. Dopodiché 1 sta poco dopo da 0, quindi noi a 0 da destra ci possiamo tendere, ci possiamo avvicinare piano, 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 pianino e quindi di conseguenza potremmo scrivere il limite per t che tende a 0 da destra dell'integrale che va da t ad 1 di 1 fratto la radice quinta di x alla seconda in dx. Così diventa più sensato, dice oddio, a me sembra solo più complesso. Sì, in effetti complesso sarà anche complesso, però intanto matematicamente parlando un po' più in teoria si può fare. Pattichiari amicizia lunga ragazzi, questi sono esercizi ovviamente leggermente più avanzati, è inutile fare questo se non so l'integrale indefinito, l'integrale definito, il calcolo delle aree, non ho studiato le derivate, peggio mi sento, anzi, quindi io ti rimando tutto sul mio sito web, il pagina dell'elenco completo delle video lezioni, fai un salto lì, guarda quello che ti può servire, ci sono più di 200 video a disposizione per te, quindi di conseguenza, boh, datti una mano, perché sostanzialmente troverai un po' più di forza per poi affrontare questo. Dopodiché, che cosa fai? Mi raccomando, non facciamo tutt'assieme integrale definito, integrale indefinito, no, ti metti un attimino qui da una parte, per quanto esso sia semplice, ti fai il tuo integrale indefinito, di x alla meno due quinti, se vuoi sì, questo te lo scrivi così, perché saprai che è un integrale immediato, e che devi trattare con la regola di integrale di x alla alfa in dx, e che darà come risultato x alla meno due quinti più uno, fratto meno due quinti più uno, ovviamente più c, visto che qui stiamo facendo un integrale indefinito. Ricordati che nell'integrale definito invece più c meno c se ne vanno appassionatamente a fare una passeggiatina al mare, e quindi, amen, spariscono. Detto tutto questo, meno due quinti più uno dovrebbe fare tre quinti, se hai problemi, tu 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 tu, ti metti lì e ti fai il tuo calcolino, comunque dovrebbe essere x alla tre quinti fratto tre quinti più c. Rigiriamo il tutto, la frittatina, cinque terzi lo porto sopra, radice quinta di x alla terza più c. Questo è il risultato dell'integrale indefinito, non è la panacea di tutti i mali e non è neanche la fine dell'esercizio. Noi dobbiamo ritornare assolutamente a sua maestà limite. O meglio, innanzitutto dobbiamo tornare all'integrale definito. L'idea è sempre quella di applicare bene il metodo scientifico. Macroproblema, spezzetto in tanti sottoproblemi, se serve spezzetto ancora un altro pochetto e poi ritorno sopra quando ho risolto i piccoli sottoproblemi per tornare al macroproblema. This is the point, ok? Questo che vuol dire? Questo vuol dire che adesso hai il tuo integrale da 1 a t di 1 fratto la radice quinta di x alla seconda in dx. Mi raccomando, ordine e pulizia sulla carta che significa ordine mentale e poi successivamente tutto questo sarà 5 terzi della radice quinta di x alla terza calcolato fra, ecco appunto, a proposito di ordine, niente distrazioni, era da t ad 1, da t ad 1. Adesso applichi quello, la primitiva, che è questa calcolata nell'estremo superiore, meno la primitiva calcolata nell'estremo inferiore. Quindi ti prepari due blocchetti, sempre per la teoria ordinati e meglio, 5 terzi della radice quinta di 1 alla terza meno 5 terzi della radice quinta di t alla terza. Si tratta semplicemente di sostituire 1 al posto della x e sostituire t al posto della x. And the game is end. Ok? Finished. Quindi di conseguenza questo che significa? Vabbè, questo fa 1, quindi rimane 5 terzi, quindi qui rimane semplicemente 5 terzi meno 5 terzi la radice quinta di t alla terza. Dice, ok, va bene Matteo, e quindi che cos'è? Niente, è la funzione integrale sviluppata in t. Noi per risolvere l'integrale in proprio di partenza eravamo passati al limite dell'integrale definito tra t ed 1, noi ci manca sostanzialmente di svolgere il limite. Quindi ti rimetti qui da una parte, ti riprendi il limite per t che tende a 0 da destra e al posto di quella parte lì, che adesso ti colora zio Matteo tranquillo, cioè al posto di questa parte qui, devi andarci a mettere il risultato che hai appena ottenuto. Quindi di conseguenza 5 terzi meno 5 terzi della radice quinta di t alla terza. Tutta sta bella solfetta sostanzialmente quanto fa? Allora, se t tende a 0 da destra, questo va a 0, quindi questo pezzo dovrebbe sparire e rimanermi solo il 5 terzi che dovrebbe essere il risultato finale. Un integrale improprio tecnicamente può sia convergere che divergere, converge nel momento in cui il risultato finale viene numerico, un numeretto, non importa quanto esso sia, e successivamente diverge nel momento in cui l'integrale viene a più infinito o meno infinito. Sì, l'integrale a quel punto può venire più infinito o meno infinito. Lo vedremo, diciamo, forse sarà un po' più chiaro anche nell'esercizio successivo. Per quale motivo? Beh, perché facendo un limite il limite potrebbe sia convergere che divergere. Questo dovrebbe essere tutto l'esercizio. Butta un'occhiata. Se hai ancora qualche dubbio o domanda lascia un commentino. Nel mentre però passiamo all'esercizio bomba. Ok, partiamo da un presupposto, Big Genius. Questo esercizio sta un po' avanti. Cioè è un livello leggermente avanzato rispetto a quello di prima. Se quello di prima serviva per introdurti nel magico mondo degli integrali impropri, questo serve praticamente per farti ripassare tutto. Integrali per sostituzione, fratti semplici, limiti, e chi più ne ha più ne metta. Quindi di conseguenza un vero e proprio esercizio bomba come forse non ne ho mai proposti qui sopra. Quindi occhi aperti, antenne alzate e partiamo. Allora, la prima osservazione è che qui il problema è solo che l'integrale tende a più infinito. Il dominio, questo, è una funzione che è valida per tutti gli x appartenenti ai numeri reali e quindi fine della giostra. Dopodiché, come abbiamo detto in precedenza, il primo grande problema, sì, se vuoi lo possiamo trasformare subito in limite, stavolta limite per t che tende a più infinito, dell'integrale che va da 1 a t di 1 fratto e alla 2x più 1 in dx. Qui il primo grande problema però è l'integrale tecnicamente indefinito che stavolta non è tanto immediato, ovvero l'integrale di 1 fratto e alla 2x più 1 in dx che è uguale a. Allora, qui me la vado a giocare con una sostituzione. Perché me la vado a giocare con una sostituzione? Perché io, non lo so, non ho altre grandi idee. Se tu dovessi avere altre grandi idee, ovviamente informa me e tutta la big family qui sotto in maniera tale che ne parliamo insieme. Questo che cosa significa? Che io decido di mettere t uguale a e alla x, decido di liberare la x uguale ad ln di t e decido poi di calcolare il differenziale. Ti ricordo che il differenziale si calcola moltiplicando la derivata per il differenziale stesso, quindi di conseguenza 1 per dx è uguale a 1 su t dt. Questo è il metodo tecnicamente che io chiamo indiretto nella sostituzione, ovvero vado prima a liberare la x e poi calcolo il differenziale. Non è l'unico modo in cui si può giocare con la sostituzione, ma magari faremo una video lezione a parte, se ti interessa, solo ed esclusivamente con gli esercizi di integrali per sostituzione. Successivamente questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che dovremmo essere in grado a questo punto di poter sostituire tutto qua dentro, 1 fratto t al quadrato più 1, al posto di dx ci vado a mettere 1 su t dt. Ora, io innanzitutto spero che questa cosa non ti sciocchi più di tanto, nel senso che e alla 2x significa e alla x elevato al quadrato, e alla x è t, t al quadrato più 1. Per 1 su t dt, diciamo che tutta questa parte qui prende il posto del dx. Spero che sia chiaro anche questo. A questo punto ci troviamo di fronte ad un integrale che dice, Matteo, ma siamo sicuri che questa sostituzione è efficace? Oddio, come hai notato già nel dire la parola sostituzione, ho faticato perché di efficace qui al momento non c'è molto e non sembra, però almeno ho un'idea o una parvenza di come poter continuare rispetto a prima che non sapevo proprio cosa fare. Qui potrei giocarmela con i miei amici fratti semplici. In particolar modo potrei prendere la frazione 1t al quadrato più 1 moltiplicato per 1 su t e cercare quindi tecnicamente di vedere questo come un polinomio di terzo grado e da scomporre il tutto in questa maniera qui. Da una parte sotto ci metto t al quadrato più 1, dall'altra parte ci metto t. Ovviamente se ancora non hai studiato nel dettaglio la tecnica dei fratti semplici te la devi andare a rivedere. In particolar modo io adesso la sto applicando anche su un polinomio a denominatore di terzo grado che non è proprio light, non è la versione più semplice sicuramente da cui partire, però in questo caso dovrebbe essere at più b. Ti ricordo che dovresti utilizzare tante lettere quant'è il grado del polinomio a denominatore. questo sopra è strutturato in maniera tale che sia la derivata di questo sotto e questo idem è strutturato come che sia la derivata di quello sotto. A questo punto diciamo che l'obiettivo è cercare di capire che valore devo dare ai coefficienti a, b e c in maniera tale che io riesca a ricostruire perfettamente questa frazione. Questa frazione già è identica almeno da un punto di vista del denominatore. Vedi, questo sarà identico a questo e quindi di conseguenza viene t che moltiplica t più b più c che moltiplica t al quadrato più 1. Non mi sto inventando nulla ragazzi sto facendo un banalissimo minimo comune multiplo ovviamente inserito all'interno di un contesto elevato ma come noti l'operazione elementare atomica è semplice sempre ragionare in piccoli pezzetti. Dopodiché che cosa facciamo? Questo viene a t al quadrato più bt più ct al quadrato più c il tutto fratto t al quadrato più 1 moltiplicato per t. Ora diamo un po' di colore, un po' di inventiva. Come vedi qui c'è solo ed esclusivamente il termine noto 1 il termine noto all'interno del polinomio che sta qui al numeratore con a, b e c è rappresentato solo ed esclusivamente da c e quindi di conseguenza questo vuol dire che c deve essere uguale a 1. Su questo non ci piove. Per quanto riguarda il termine di secondo grado a t quadro ct quadro vuol dire che a più c deve essere uguale a 0 perché qui non compare il termine di secondo grado. Ok. Lo so che sei stanco, stanca, però un attimo respira, metti pausa e poi senti ancora il mio brutto vocione. Successivamente ritroviamo b che anche lui deve essere uguale a 0. Questo fondamentalmente è un sistema, tre equazioni in tre incognite a, b, c. Io so già b, so già c, di conseguenza saprò anche a perché se questo è 1 diventa meno 1. Quindi ricapitolando vuol dire che a è uguale a meno 1 vuol dire che b è uguale a 0 e che c è uguale a 1. Dici ok Matteo, più o meno, guarda, chiaro, nei limiti del passaggio è chiaro ma che ci faccio mo' con sti a, b e c? Ecco, giusta osservazione per non perdere la bussola. Ritorni 30 secondi qui nel mare magnum della nostra vita. Questo che cos'era? Era lo spartimento diciamo di questa frazione quindi la divisione in due sottofrazioni più semplici. Questo che vuol dire che noi dobbiamo fare l'integrale di questo, di questo e adesso invece che fare l'integrale di questo faremo l'integrale di questo più l'integrale di questo che come vedi dovrebbero essere due integrali un po' più semplici però prima non sapevamo che valori dovevamo dare ad a, b e c ecco perché abbiamo creato tutta questa manfrina tutta questa tecnica dei fratti semplici adesso sappiamo che valore dobbiamo dare ad a, che valore dobbiamo dare a b che valore dobbiamo dare a c e si spera che siamo in grado di fare questi due integrali se facciamo questi due integrali e abbiamo risolto questo integrale siamo più vicini a risolvere l'integrale indefinito di partenza capisci bene che quindi ok lezione sugli integrali impropri ma l'integrale improprio in sé e per sé è solo il problema di partenza poi è tutta altra storia classica sugli integrali dammi un secondo che sistemo la lavagna e sono da te ok 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 eccomi qui dai abbiamo recuperato un po' di fiato e come on guys quindi a t più b fratto t al quadrato più 1 in dt più integrale di c su t dt mi sembra che tutto fili geniale dopodiché fondamentalmente è integrale di che cosa a abbiamo detto che è minus 1 quindi meno t b abbiamo detto che è 0 nada quindi t al quadrato più 1 in dt più integrale di che cosa c 1 fratto t dt nel mentre la mia scimmietta qui nel cervelletto mi ha detto una cosa molto interessante ovvero che forse se avessimo fatto una sostituzione leggermente diversa tipo t uguale alla 2x per ciò che riguarda questo integrale indefinito ce la saremmo cavata leggermente più in maniera facile ma noi siamo dei veri big genius e quindi nulla ci spaventa però tu puoi sempre riprovare a fare la stessa identica cosa nell'altra sostituzione te la ripeto t uguale e alla 2x poi magari fammi sapere commentino qua sotto come è andata se no che comunichiamo a fare dopodiché fondamentalmente quello sopra la derivata di quello sotto sì ci siamo quasi questo meno lo prendo e lo metto fuori qui mi serve un 2 quindi bilanciamo con un mezzo sì sì tanto sai che con le costanti matematiche 1 2 3 7 meno un quarto facciamo come ci pare o quasi e poi successivamente quindi questo sarà meno un mezzo ln del modulo di t al quadrato più 1 e questo sarà più ln modulo di t ora più c sì se vogliamo proprio essere gentili dopodiché tutta sta solfetta dovrebbe essere ulteriormente interessante perché al posto di t ci possiamo andare a rimettere e alla x cambio colore così si vede meglio e viene meno un mezzo ln di e alla 2x più 1 ho tolto il modulo perché questa è comunque sempre una quantità positiva più ln di e alla 2x più c ora e alla 2x il 2x lo prendi e lo butti qui davanti saprai che ln di e fa 1 mi raccomando ragazzi queste a questi livelli dovrebbero essere cose assodate ti rimando alla mia playlist completa qui qualora ci fosse qualche dubbio su esponenziali logaritmi proprietà dei logaritmi insomma lì trovi davvero tutto il mare magnum su esponenziali e logaritmi ln di e sai che fa 1 logaritmo con la base uguale all'argomento quindi rimane solamente 2x e qui rimane quindi meno un mezzo ln di e alla 2x più 1 più 2x più c ok sembra interessante cioè che cosa abbiamo fatto abbiamo risolto questo integrale indefinito ora questo integrale indefinito non dobbiamo fare altro che prendere il limite per t che tende a più infinito metterci dentro quello che abbiamo appena calcolato cioè questo qui quindi meno un mezzo ln di e alla 2x più 1 e poi successivamente più 2x e dire che lo vogliamo calcolare fra t ed 1 estremo inferiore ed estremo superiore praticamente siamo a metà o anche oltre la metà la parte più difficile ormai daie per noi l'abbiamo scavallata quindi ci rimane semplicemente da calcolare questo e poi da fare il limite daie ok 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 quello è il risultato parziale qui ho riaperto il limite andiamo a sostituire subito quindi meno un mezzo ln di e alla 2t più 1 chiudi poi più 2t quindi questa è tutta la parte calcolata nell'estremo superiore meno la parte calcolata nell'estremo inferiore tutto tra le parentesi graffe del limite ok qui bisogna non perdere la bussola quindi meno un mezzo ln di e al quadrato più 1 più 2 non mi chiedere che roba sia ovviamente metti il meno davanti ho sostituito 1 e viene sostanzialmente questo è un numero né più né meno schifoso quanto di pare ma rimane pur sempre un numero ora la cosa interessante è che noi dovremmo fare questo limite qui e cercare di capire quanto viene o non viene questo limite ora se noi prendiamo questa prima parte viene e alla più infinito sicuro ln di più infinito fa più infinito col meno davanti e ti pareva non faceva meno infinito perché dico ti pareva? perché poi questo fa più infinito e quindi noi in questa parte qui del limite otteniamo una bellissima forma indeterminata quest'altra parte qui del limite tecnicamente ripeto non mi preoccupa perché è un numero ora questi sono esercizi anche d'esame quindi devi avere la pazienza di riempire 3-4 pagine anche con un po' di sudore e un po' di sangue perché se no non andiamo da nessuna parte detto tutto questo questa è una bellissima forma indeterminata come la risolviamo? bella domanda intanto fai una cosa davvero big genius limite per t che tende a più infinito e cerchi sostanzialmente di capire un po' meglio come si comporta questa cosa da sola stand alone in maniera tale da avere meno problemi meno difficoltà io farei una cosa metterei in evidenza qua dentro e alla 2t per cercare di liberare e capire come questo infinito si comporta rispetto a questo infinito sfruttando poi magari anche la gerarchia degli infiniti su gerarchia degli infiniti ma sui limiti in generale ho fatto una serie di video questo è quello proprio sull'ordine degli infiniti facci un salto magari ti può dare una mano e ti aiuta anche magari a farlo un po' più velocemente di tutte le procedure che faccio io adesso io cerco di darti delle linee guida che sono replicabili perché se comincio a fare solo ed esclusivamente voli pindarici pom pom guarda questo corre più veloce di quell'altro non ci capiremo mai tu non impari niente e questo video non è servito a nulla quindi di conseguenza cosa facciamo? meno un mezzo ln apri una quadra e alla 2t lo metti in evidenza e viene 1 più 1 fratto e alla 2t chiudi la quadra quindi tutto questo è l'argomento più 2t ripeto ragazzi di questa parte momentaneamente non mi interesso la lascio in sospeso è un numero a seconda di quello che verrà qui meno questo numero poi vedremo che aria tira complessivamente ora che cosa faccio? questo qui c'è una moltiplicazione quindi potrei usare le proprietà dei logaritmi non per compattare chiudere ma per aprire per scomporre quindi questo potrebbe essere un limite per t che tende a più infinito di che cosa? di meno un mezzo apriamo una tonda di ln di e alla 2t più ln di 1 più 1 fratto e alla 2t e poi il tutto quindi questa era una tonda un po' più grossa e questa una tonda un po' più grossa più 2t chiusa la quadra lo so ragazzi però con le parentesi ci dobbiamo giocare se no non ci capiamo più niente ora questo fa esattamente 2t che sembra molto interessante questo successivamente fa 1 fratto infinito 0 0 più 1 1 ln di 1 0 quindi questa parte sostanzialmente diventa molto più easy perché? perché diventa il limite per t che tende a più infinito di meno un mezzo per 2t meno t poi diventa meno un mezzo ln di 1 più 1 fratto e alla 2t mi raccomando questo trucchetto questo passaggino questa idea che ti ho dato qui imparala vedila come metodo generale che può essere replicata in tanti altri limiti in tanti altri frangenti che coinvolgono il logaritmo in particolar modo se dentro c'è l'esponenziale meglio mi sento successivamente abbiamo più 2t chiudo 2t meno t fa semplicemente t permettimi di fare così se no faccio notte e t che tende a più infinito abbiamo detto che tutto questo tende a 0 e tutto questo tende a più infinito questo vuol dire che tutta questa parte meno infinito più infinito alla fine tende dritta per dritta più infinito più infinito meno un numero che sia esso positivo o negativo non è molto interessante vuol dire che questo limite fa più infinito cosa vuol dire che se non ho sbagliato nulla cosa che non ci metterei la mano sul fuoco perché sono un supereroe ma boh forse anch'io posso sbagliare credo quindi di conseguenza questo integrale vuol dire che diverge questo è il risultato finale è stata lunga dolorosa e forte come al solito iscriviti al canale ripassa e studia insieme a me non mollare mai dagli è tutta ciao campione ciao 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 ciao